Salve e bentornati. Poiché in questo periodo festivo tra le tante cose mi è stata anche sottoposta una recensione di un libro di Thomas Piketty dal titolo Capitale et Ideologie che in realtà è la seconda parte o la continuazione di un altro testo pubblicato, questo pubblicato nel 2019, di un altro testo pubblicato nel 2013 dal titolo Il Capitale nel ventunesimo secolo. Piketty è direttore della scuola degli studi di scienze sociali ed è docente alla scuola d'economia di Parigi. Il testo che avevo letto poco dopo la pubblicazione è uno di quei libri che a me piacciono, uno di quei testi corposi nei quali si pensa che vi possa essere spazio per il respiro di un pensiero anche se vi sono molti, forse troppi, troppi diagrammi ma e il diagramma leva spazio al pensiero. Io non ho mai trovato un diagramma in un libro di Kant di Hegel nei testi di Platone, però noi abbiamo ormai questa visualizzazione, ma dicevamo mi ha un po' indotto a un discorso che per molti versi, per alcuni versi continua un po' si aggancia forse più che continua all'accenno fatto sul tema dell'eugenetica e del concetto che è del trattare le popolazioni come delle masse da controllare, da dominare, che determina poi anche l'ingegneria sociale, il concetto di social engineering, ossia l'idea che sia possibile ingegnerizzare, manipolare, indirizzare, portare verso una direzione o verso un'altra sistemi complessi come le società umane. Se noi ci poniamo però la domanda da dove proviene quest'idea che alcuni tra noi potrebbero anche definire come bislacca del poter indirizzare sistemi complessi, dunque poter dominare la complessità, come già riportato nel saggio che è in sé da un punto di vista scientifico un errore. Già nel secolo scorso Lorenz dimostrò appunto che la complessità è per sua natura non dominabile ed instabile. Poi noi oggi abbiamo teoria del caos, abbiamo sviluppato tantissimo su questi temi. Ma allora da dove viene questa quest'idea che sia possibile indirizzare le società attraverso progetti di ingegneria sociale e dunque manipolare, costringere, sottomettere quella che sostanzialmente è la natura umana la quale compone la società. Ebbene proviene da tutta una serie di passaggi ideologici di cui quello di cui abbiamo parlato, Malthus e il tema della eugenetica, sono una parte di un discorso molto più ampio. Poi direte, ma dove entra Piketty in tutto questo? Bene, vedete, Piketty in questo testo, a parte che è evidente che nel momento in cui Piketty riprende questa analisi del capitale si parte dal grande ideologo del capitale che è Marx. Marx è colui che crea il capitalismo. Molti diranno Adam Smith per nulla. Adam Smith definisce tutta una serie di criteri che stanno alla base della ricchezza delle nazioni. Definisce ovviamente in maniera molto precisa anche concetti come il concetto di lavoro, ma non inventa il capitale. Il capitalismo è inventato da Marx. Che sembra un paradosso, colui che lo combatte è colui che in realtà lo inventa. E colui che, vedete, arriviamo al punto, nel mezzo tra questa vastità della complessità che è la socialità, vede il bandolo che è quello del capitale, dell'accumulo, della ricchezza, della... e questo un po' trova riverbero nelle parole anche di Piketty che proprio inizia volendo discutere, volendo descrivere in questo suo corposo testo la storia dei regimi inegalitea, dei regimi della disuguaglianza. Ora, non è che esiste una sola direzione, come sempre. Una società ideologica vuole farci credere che in tutto vi sia sempre e soltanto una sola direzione. There is no alternative, la sioma del neoliberismo, che è anche la sioma di menti ristrette le quali vogliono semplificare la complessità in una visione unica. Potremmo qui ricordare il problema rappresentato dall'uomo a una dimensione, come lo evidenzierà Marcus, ma potremmo andare molto più indietro di quel grande monito scolastico tomista, timeo homo unius, libri, temi, l'uomo da un solo libro, che può essere letta in molti modi, come tutte le frasi che hanno una loro enorme profondità, però qui può anche essere inteso come temi coloro i quali vogliono applicare al mondo, alla realtà, alla complessità, un solo modello, un solo libro, una sola parola, una sola spiegazione. Il problema che emerge in questo nostro discorso è un problema che torna proprio all'autore, Karl Marx. Voi ricorderete tutti la famosa tesi in cui Marx dice che ha fatto molta eco, che tutti ripetono spesso, a volte papagalescamente, altre volte per aggiungerci code e codazzi, ma è nota la frase, l'assioma, il termine di Marx, secondo cui i filosofi hanno fino ad oggi interpretato il mondo, una delle tesi su Feuerbach, adesso è giunto il momento di cambiarlo. Questa tesi non è mai stata vera. E questo è forse il più grande errore, il più grande fraintendimento storico nella dottrina marxista. Pensate, già nell'Ottocento, Fichte, una volta dissi in una conversazione una cosa che poi mi hanno fatto notare che era, che conteneva un'ironia implicita, quando dissi in una oscura nota di Fichte, e il mio interlocutore disse, un'oscura nota di Fichte perché ce ne sono di chiare? Molto bella quell'osservazione, ma Fichte diceva che lo studioso, colui che pensa, è l'essere più pericoloso, Fichte appunto nelle sue tipiche esagerazioni, ma è l'essere più pericoloso che ci sia al mondo, perché dal buio di questo suo studiolo, senza luce, senza riscaldamento, dava questa immagine romantica, tragica del pensatore, e però l'uomo più pericoloso, o la donna, Fichte diceva uomo, in realtà diceva mensch, perciò mensch può essere l'uno o l'altro, che vi sia in quanto è proprio in quegli studioli, è proprio in quei momenti in cui si aprono nuove letture del mondo, che il mondo cambia. Quando non si studia, non si analizza, non si considera o valuta la storia umana attraverso il percorso di una storia delle idee, viene a mancare proprio questo accesso quando ad esempio si arriva alle esaltazioni del nuovo e si pretende di gettare via il vecchio. Questa perché è un'operazione pericolosa, oltre ad essere un'operazione ideologica? Perché rischia di non far più vedere la continuità, ma anche l'influenza che le idee hanno avuto nella storia umana e continuano ad avere. Perché l'essere umano è, come ben sappiamo, è un essere... quando è un essere dotato, i greci diranno di logos. Lo so, lo devo ripetere ogni volta, lo so che a scuola dicono logos, lo so. Soprassadiano. Logos in greco significa tanto ragione, pensiero, ma anche parola. Dunque, questo essere dotato di parola è un essere anche comunicante, è un essere che vive nella dimensione del logos, nella dimensione del pensiero. Anche quando non ci crede, anche quando non lo sa, anche quando non se ne accorge. Tutti noi viviamo dapprima nella dimensione del pensiero, innanzitutto perché qualunque relazione con il mondo è una rappresentazione. Torniamo di nuovo a Schopenhauer. Il mondo come volontà è rappresentazione. Dunque, essendo tutto una rappresentazione, è tutto una questione di pensiero, pensiero e parole. Da qui l'emergere delle delle tirannidi della modernità, le quali, capendo questo, e avendo i mezzi per portare avanti una manipolazione a livello internazionale, nazionale o internazionale, grazie all'utilizzo appunto dell'ogos, della parola, in questo senso solo di parola, non di ragione, riescono a costruire il mondo degli esseri umani. E questo è un criterio valido per tutti, perché ovviamente non si può avere certezza se non di di conclusioni che rispettino un ordine razionale. Quello che Foucault, quando Foucault parlava ad esempio dell'ordine delle cose, in maniera molto diversa dal senso che gli stiamo dando qui, in realtà l'ordine autentico delle cose è l'ordine della razionalità. Non esiste nell'universo, l'abbiamo già detto spesso, alcuna cosa, alcun aspetto, alcun elemento che non possieda una sua razionalità. Ovunque tu vedi, ovunque tu guardi nel cosmo, nell'intestesso, dalle stelle fino al microcosmo, esiste sempre una razionalità. La razionalità è ciò che lega tutte le cose. Ma attenzione, tra i tanti problemi dell'ideologia della modernità, vedete qui entriamo proprio piedi uniti nel tema, che quando noi diciamo razionalità, nel contesto della modernità, questa significa meccanotecnica, razionalità meccanotecnica, significa irrazionale quello da cui io posso ottenere un ricavo. E questa è la grande tragedia della modernità e anche dove emerge il suo carattere radicalmente ideologico. Vedete, noi non siamo cose. E questo è un tema che tutta la letteratura sapienziale contiene e sul quale hanno sempre ammonito tutti i grandi pensieri. Non importa dove questi siano. Tutti i grandi pensieri dicono come con quella famosa frase di Isaia alzate alzate gli occhi in alto e guardate che significa trascendete andate un po' oltre quello che è il piccolo orizzonte del bestialismo del edite bibite copuli guardate oltre guardate in alto perché voi siete in alto e abbiamo già ricordato la volta scorsa come Kant stesso collega imperativo morale con l'universo il cosmo la bellezza le stelle oltre Kant fa esattamente quello che Isaia chiede di fare alzate gli occhi in alto e guardate e questo perché perché l'essere umano non è una cosa se noi fossimo cosa non potremmo avere un rapporto con la trascendenza non potremmo avere un rapporto con quelle categorie fondamentali dell'esistere che scoprirono già i greci che sono quelle del buono del vero e del bello tutti tutti i concetti tutti ideali non afferrabili la grande idea di Platone che scopre la triangolarità che supera tutti i triangoli il bello che supera ogni manifestazione del bello che poi appunto è anche un concetto tanto filosofico quanto teologico pensate gran parte della mistica cristiana ma anche della mistica precedente la mistica la mistica ebraica Faradel qui dovremmo forse dire dalla mistica ebraica alla mistica cristiana ci si arriva attraverso il passaggio del neoplatonismo ma non andiamo troppo adesso nei dettagli ma faranno queste queste teologie del concetto di emanazione una una chiave di lettura fondamentale se noi abbiamo in noi vedete il mito del Genesi l'Onnipotente soffia dentro questa massa amorfa questo golem che è Adamo prima di diventare umano e così gli inserisce una parte divina e tra questa parte divina ha il riscontro un famoso passaggio della mistica medievale diceva quando parlava del passaggio a miglior vita della morte dell'individuo diceva che l'individuo tornava luce nella luce questo lo ritroveremo in tantissimi in tantissimi autori il bello nel pensiero invece filosofico come tanto filosofico quanto teologico come emanazione nel mondo di principi sopra sovramortali sovra razionali forse sì questo anche sarebbe un altro passaggio ma i principi metafisici adesso ritornando indietro da questa divagazione in un altro territorio proprio dal principio metafisico possiamo tornare alla modernità la quale non riconosce più alcuna metafisica per questo vorrei chiamare questo contributo la modernità come ideologia ora noi non ci accorgiamo di tutto questo quando innanzitutto non operiamo questa questo confronto tra noi e il passato che è una cosa vedete questo è un compito che si sarebbe dovuto sobbarcare la scuola e l'università se non fossero intenti a fare altre cose in alcuni casi costretti in altri casi volutamente intenti io la cito spesso questa questa butad perché è importante ero ancora in Italia quando questo tizio durante una riunione del corpo docente trovò non trovò niente di meglio da fare che attaccarmi di fronte agli altri dicendo io diversamente dal collega non faccio teoria perché io so sono convinto lo so bene che la teoria è l'anticambra di qualunque prassi senza teoria non c'è prassi qui i praticoni quelli che dicono io faccio faccio poi alla fine non fanno niente perché non hanno capito quello che fanno ma non esiste una prassi senza una teoresi una prassi razionale coerente certo io posso costruire una casa così ad occhio poi però mi crolla in testa o se non mi crolla in testa non sarà certamente così stabile se invece io ho una teoria ben precisa se capisco cosa significa una portata di un muro se so fare questi calcoli la casa posso anche costruire un grattacielo di cento piani senza la teoria non c'è la prassa ebbene questo sì durante questa riunione sì siccome vedete strano che persone che poi sono portate sono per sono chiamate ad insegnare poi quanti ragazzi rovineranno questi e disse appunto io diversamente dal collega non faccio teoria nella mia classe io ho aspettato che finisse poi in effetti il collega fa pratica alla lavagna gli altri capirono molto spesso noi pensiamo che siccome facciamo degli esempi pratici siccome io dico invece di dire A e B per due oggetti dico la penna e la mela allora sto facendo pratica stai sempre stai pur sempre facendo teoria ebbene poiché la scuola dovrebbe avere il compito di insegnare a vedere la teoria di insegnare a vedere oltre l'immediato di insegnare l'astrazione la generalizzazione tutti quei processi tutti quei concetti che fanno parte del pensiero razionale della di quella che si può definire come la scienza la scienza procede sempre attraverso tutta una lunga serie di principi tra cui l'astrazione è uno dei criteri fondamentali la stessa però lo stesso gli stessi criteri astratti barra metafisici che oggi noi rigettiamo la metafisica come se non esistesse ma non esiste perché noi abbiamo deciso che non esiste perché noi perché alcuni tra noi in genere non i più acuti hanno deciso che non esiste perché e lì c'è anche un processo politico vedete se uno vede qual è il motivo per cui noi mettiamo da parte una cosa come la metafisica ebbene se noi grattiamo questo concetto vediamo che alla fine c'è una la vecchia la solita vecchia diatriba tra potere religioso e potere temporale poiché la metafisica è stata invocata dai poteri religiosi allora il potere temporale dice io devo negare il tuo presupposto per avere il sopravvento vedete come poi alla fine diventa tutta una questione di 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 beghe di beghe da quattro soldi ma in realtà una cultura avanzata una cultura propria non non rigetta un concetto senza una dimostrazione e anche poi quando li rigetta continua a ricordarli perché questi concetti sono utili per capire altre cose voi pensate il paradosso di Zenone facciamo un esempio che abbiamo già fatto il paradosso di Zenone i paradossi scusate i paradossi diciamo uno adesso prendiamo un paradosso di Zenone che è quello più famoso forse quello di Achille della tartaruga o forse quello della freccia ebbene questi paradossi vengono risolti nella matematica dell'ottocento grazie alla teoria delle serie di Cauchy ma non è che non vengono più ricordati o spiegati nonostante perché anzi vengono ricordati perché attraverso questi paradossi si può spiegare l'evoluzione di un concetto di un'analisi matematica scientifica capire dove era l'errore e insegnare un metodo di ragionamento fino a quando noi non abbiamo capito che le serie numeriche sono di tipo divergente o convergente non potevamo risolvere il paradosso quello che adesso non dovrebbe più essere chiamato come paradossi di i paradossi di Zenone noi non sappiamo se in futuro noi troveremo altri altre vie di accesso alla realtà che ci consentano di capire ancora meglio non lo so concetti come pensate l'unificazione tra spazio e tempo che è sinceramente molto insoddisfacente da un punto di vista concettuale era lo stesso problema che aveva una mente eccelsa come Einstein di fronte a queste cose nonostante sia lui quello che procede all'unificazione di spazio e tempo perché il tempo non si trova da nessuna parte perché il tempo non è ancora dimostrabile noi non sappiamo se tra mille anni se ammettiamo che riusciamo ad uscire dalla dalla nostra pazzia e diventare davvero delle società avanzate delle società civili noi non sappiamo se tra mille anni noi avremo un concetto completamente diverso del tempo così come ce l'abbiamo dello spazio pensate lo spazio di Galilei o Newton è uno spazio assoluto per noi lo spazio è tutto tranne che assoluto non sono passati mille anni però non è che noi non insegniamo questi processi queste variazioni perché attraverso gli errori si impara molto spesso più di quanto si impari da una dottrina che casca dal cielo e questo è poi anche il motivo per cui sorge la filosofia in antitesi al pensiero sapienziale pre-socratico o pre-platonico direbbero altri il pensiero che precede Socrate è un pensiero profondo profondissimo bellissimo ma è un pensiero che proviene per auctoritas è così punto con Socrate comincia il processo in cui ma perché così vedete l'evoluzione qualunque società che imponga il criterio delle così e basta quello è il discorso che noi facciamo qui dicendo i discorsi col punto o quelli con la virgola è una società che culturalmente retrocede ora e anche qui dobbiamo un po' riavvolgere il nastro per tornare al tema della modernità come ideologia parlavamo di Marx quando Marx scrive il suo opus mayor che è indubbisabilmente il capitale questo vedete io dico sempre quando io tengo in mano questi libri non tengo in mano dei libri tengo in mano una cattedrale di pensiero ebbene nel capitale dove Marx inventa il capitalismo dove gli dice al capitalista che cosa lui sta facendo però attenzione l'errore è quello di credere che che questa sia la sola spiegazione che questo sia il solo modello io qui vorrei semplicemente così far vedere un po' un attimo al passant un testo straordinario guardate un testo di Benjamin di Israeli è un romanzo che si intitola Sibyl adesso per quelli che non hanno sentito parlare di Israele di Israele è uno dei più importanti uomini politici più ministro inglese dell'ottocento le figure voi pensate guardate già già qui viene un po' si accapona la pelle devo dire quando pensare che un primo ministro eletto però forse questa è la differenza eletto che sconcio che è la modernità guardate che sconcio che è la nostra epoca un primo ministro che scrive un testo un libro che è un libro anche abbastanza importante vedete molto spesso quando si parla dell'Inghilterra vittoriana si parla ad esempio delle condizioni di vita dei lavoratori eccetera si parla di di Dickens si parla di di molti autori Marx ovviamente ma non si parla molto spesso di Israele perché Israele era un conservatore ora poi ci sono ovviamente oggi ci sono le grandi critiche a questo testo ma uno degli elementi chiave di questo libro è che quello che noi stiamo dicendo per molti versi è già contenuto anche in questo libro per esempio una delle critiche che lui faceva diceva il fatto che la nostra società stia decadendo al punto da generare una grave povertà gravi problemi sociali gravi problemi di scompenso è il fatto che innanzitutto noi vediamo guardate dice it is not so much as the action of laws as the influence of manners that we must look but how are manners to influence men if they are divided into classes if the population of a country becomes a body of section a group of hostile garrisons so noi dobbiamo capire che questo libro è stato scritto nel mille è stato pubblicato nel 1845 prima del capitale di marx e il tema è come disraeli vede il problema e innanzitutto vede il problema della suddivisione in classi quello che poi marx formalizzerà una delle cose fondamentali è che lui dice uno dei motivi per cui noi siamo arrivati a questa situazione di divisione in inghilterra è perché manca il principio del dovere da parte di una classe rispetto all'altra cioè dalla classe di chi detiene i mezzi verso quelli che arriva a sfruttare a livelli che sono inconcepibili inimmaginabili e ingiusti dunque disraeli da conservatore vorrebbe riformulare il contratto sociale sulla base del dovere da parte di tutti del diritto da parte di tutti è un testo fondamentale per capire altre vie di accesso alla società cose che per noi questo testo per noi innanzitutto non lo studiamo più non se ne parla più ma è anche un testo che ci appare ingenuo fantascientifico chissà cos'altro perché l'ideologia è talmente entrata nel corpo della modernità da sopprimere anche quella che è la coscienza dell'individuo la naturalità dell'individuo sapete queste cose purtroppo pavlovianamente vengono fatte succedono vengono fatte molto spesso artatamente in maniera mirata ma per altri versi succedono non so se pensate le scene terribili strazianti degli animali maltrattati lasciati lasciati in condizioni disumane abbandonati per le strade tutte queste cose terrificanti se voi vedete un cane abbandonato e un cane che invece è curato sono due cani diversi poi il cane abbandonato può essere riportato perché il cane è una bestiola meravigliosa permettetemi qui un inciso una vecchia tradizione dice che siccome tutti gli altri animali sono molto distanti dall'uomo dall'essere umano se noi prendiamo una mucca che a me piacciono tantissimo le mucche sono belle a vedersi con queste ma c'è una distanza enorme la mucca a volte non non si accorge neppure che tu sei lì ma il cane questo si potrebbe dire per altri animali però la leggenda parla del cane perché il cane è stato visto sempre come il miglior amico dell'uomo eccetera anche se ci sono altri animali che sono tanto amici e tanto cari come il cane ma io penso all'asino poveretto che viene così calugnato invece è un animale stupendo adesso non dilunghiamoci troppo però è bella questa storia si dice che quando vi fu l'atto della disubbidienza di Adamo ed Eva nei confronti dell'Onnipotente si aprì un baratro che separò la terra cioè il mondo in cui siamo dal mondo in cui eravamo dal paradiso terrestre e allora alcuni dicono che il cane che voleva che era così affezionato ad Adamo nel momento in cui questo baratro si aprì saltò e venne da questa parte ed è per questo che con il cane si può comunicare meglio che con altri animali almeno si può comunicare esiste una empatia un rapporto diverso con l'animale cane rispetto ad altri appunto con l'animale mucca io qui direi l'animale mucca rispetto all'animale uomo perché o l'animale umano perché noi nel momento in cui diciamo che noi siamo qui e la mucca è qui già stiamo entrando in principi pericolosi ma scusate quando parlo di questi temi mi entusiasmo e vado un po' troppo oltre ma anche questa sarebbe secondo me una lezione importante nelle scuole bisognerebbe fare scuola di animalismo voi pensate il principio più bello che viene ad Albert Schweitzer della reverenza per la vita gli viene quando è in Africa sul fiume e guarda due ippopotami e in quel momento capisce quella grandiosa cosa che è la reverenza per la vita che è questo che porta nel cristianesimo un principio buddista dunque di una di una spiritualità molto più avanzata rispetto alla spiritualità d'occidente su questo tema ancora oggi credo ci sono ci sono delle religioni che negano l'anima agli animali avevo un caro amico che ci scrisse pure diversi saggi sul tema e uno di questi lo dedicò alla sua cagnetta ma abbiamo un po' perso il filo del discorso perché forse un giorno dovremmo fare proprio solo un contributo sulla bellezza del mondo animale che guardate non c'è paragone se mi permettete non c'è paragone perché l'ultimo degli animali è da un punto di vista degli animali non predatori è da un punto di vista della naturalità migliore di 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 appartenenti alla nostra specie se pensate solo una cosa gli animali non conoscono il sadismo e già già questo apre sì un baratro enorme tra noi e l'animale l'animale ha l'innocenza non conosce il sadismo l'essere umano certi esseri umani conoscono il sadismo se noi non avessimo queste tare terrificanti nella nostra specie non potremmo trovarci nelle situazioni in cui ci troviamo non ci potrebbe essere il tiranno se noi non conoscessi se noi avessimo eradicato queste malattie della psiche eppure non ci siamo ancora riusciti perché non siamo ancora riusciti a diffondere il sapere il pensiero l'argomentazione il discorso anzi facciamo l'esatto contrario e per questo è problematica la modernità dal punto di vista ideologico perché la modernità si rivolge proprio in quella direzione della negazione della negazione senza argomentazione l'etica diventa un nulla tutti quei problemi che già Platone evidenziava nella Repubblica quando diceva quando faceva dire a Trasimaco il quale invoca la giustizia come l'utile del più forte che è un tema che è qualcosa di cui può parlare Trasimaco certo perché Trasimaco rappresenta il lupo rappresenta la parte più primitiva più bestiale della specie ma l'evoluto capisce che così non è e non può essere ma quanti nella società d'oggi intendono la giustizia nel senso di Trasimaco e quanto pochi siamo quelli che la intendiamo nel senso socratico questo è il vero problema tu puoi oggi passare attraverso tutto un processo di formazione arrivare al premio Nobel per la fisica e non avere idea di una giustizia come come etica fondamentale la giustizia separata dall'etica e e codicilli è un insieme di codici di codicilli di regolamenti quando vedete anche qui sono la nostra l'ideologia nella nostra epoca è così radicale che dovunque tu guardi ci sono questi elementi ci sono però anche queste contraddizioni perché nel pensiero nel ragionamento autentico non c'è la contraddizione altrimenti è un pensiero incompleto nell'ideologia invece l'ideologia può andare avanti con le contraddizioni perché si chiude rispetto al mondo l'ideologia dice ok io definisco i paletti tutto quello che è qui dentro è mio va bene nel momento in cui io escludo tutto quello che c'è fuori chi vive dentro questo questo recinto crede che sia coerente perché non è più in grado di guardare fuori dallo steccato l'esempio classico è quello delle sette nelle sette ad esempio tutti quelli che portano delle argomentazioni razionali archeologiche pensate i mormoni mormoni sono un tema che io ho studiato con attenzione perché mi faceva specie vedere delle persone che potessero credere in assurdità così grandi come se fossero reali ebbene nei mormoni c'è un libro che si chiama Perla di gran prezzo in cui c'è un papiro egiziano papiro dei morti egiziano che il fondatore il truffatore Joseph Smith ha a suo modo tradotto Joseph Smith era un piccolo sapete quei truffatori che ogni tanto americani che si vedono nei film quelli che vendono le pozioni magiche un tizio di questo genere e anche in questo modo lui tradusse tra virgolette questo papiro subito già all'epoca alcuni pagarono degli egittologi perché sapete poi venne i geroglifici erano già noti dopo la spedizione di Napoleone in Egitto poco dopo con Champollion nella scoperta della Rosetta Stone della stella di Rosetta un egittologo del della Smithsonian ricevette questa cosa e disse no questo testo non dice niente perché quello nella traduzione dello Smith dice Abramo scusate Abramo che parla fantasia immaginazione di un pazzo di un millantatore e questo edittologo disse non è per niente il testo è un tipico papiro dei morti dove si parla di questo di questo morto che arriva di fronte ad Anubis d'aldilà eccetera le cose egiziane voi pensate che e poi pensate oggi già nell'ottocento questo si sapeva oggi e secondo me ci saranno anche delle app a breve per tradurre l'egiziano antico i geroglifici ma voi pensate che questo smuoverebbe di un millimetro la la demenza di un di un mormone perché lui il mormone vive dentro quel quello steccato ideologico che dice tutto quello che è fuori non è vero dunque l'egittologia non è vera perché noi dobbiamo seguire il nostro il pazzo che ci dice a noi che è un'altra cosa voi capite come parlo a sinistra per rispondere a destra perché l'epoca contemporanea soprattutto il momento attuale è esattamente la stessa cosa solo su vasta scala una volta che una volta nel momento in cui si è riuscita a determinare la cornice poi si riesce a determinare tutto quello che vi sta fuori l'evidenza i fatti la medicina i numeri non significano più niente poi ci sono anche tecniche di cui sappiamo con le quali basta ripetere da certe sedi ma tutto questo che noi diciamo ci meravigliamo e diciamo che è stato troppo facile in realtà è facile perché si basa su un tessuto si basa su un cittadino che è già stato stravolto da tempo da molte ideologie è stato stravolto da da un pensier da un pensate uno dei grandi drammi della modernità per la quale l'aumento del consumo di psicofarmaci nella nostra epoca è qualcosa di incredibile e perché? perché esiste tutta questa infelicità a livello della società generale perché giustamente l'individuo è visto come cosa è messo all'interno di un meccanismo di produzione gli viene venduta la felicità come una questione di consumo questi sembrano temi sapete moralistici questo e l'altro ma non lo sono per niente sono temi effettivi nel momento in cui l'individuo sprofonda in una falsa rappresentazione non soltanto della realtà ma anche di se stesso rispetto alla realtà in un momento in cui gli dicono tu sei cosa ma se tu sei cosa sei nulla se io getto per terra questa penna e si rompe mi dispiace certamente la mia penna la uso per scrivere ma non avrò di certo patemi morali aprendo la butto perché è una cosa non ho commesso nessuna azione sbagliata non ho fatto nulla di male e da lì procede anche il consumo che cos'è se non l'identificazione di un bene ideale che è la felicità con l'acquisto di cose alcuni i soliti quando se io faccio magari un discorso a fine dicono ah ma tu anche compri i libri ma il libro non è una cosa il libro contiene un pensiero il libro non è come questa penna non è non è inerte e questo lo capiscono chi hanno questo lo capisce chi ha un rapporto con il libro il libro è una finestra è una porta su altri mondi è un e non compri il libro per dire oh il libro compri il libro per capire per accrescere quello che vorrei che per capire meglio per parlare con qualcuno che non c'è più il libro non è un oggetto anche se la modernità lo vede come tale soprattutto per via appunto della produzione di massa questo è l'altro oppure della produzione di certe cose dei non libri ma ci stiamo espandendo molto in questo discorso ma parliamo del tema della modernità come ideologia dunque dobbiamo esplorare corners angoli diversi adesso per quanto riguarda il rapporto delle idee il rapporto ideologico vorrei tornare appunto al testo di Marx di cui parlavamo il capitale il capitale si apre proprio dalla sua prima guardate e qui vorrei far vedere attraverso questo breve scursus come nel mondo delle idee della conoscenza tutto parla tutto tende a costruire un discorso che è il discorso della civiltà che è opposto al discorso della barbarie noi abbiamo bisogno di abbiamo un bisogno disperato di civiltà nella nostra epoca disperato nel momento in cui abbiamo assurdo i peggiori che la nostra società possa offrire a nostri leader a nostri a quelli che ci rappresentano il mondo gente che non ha che non ha nessuna nessuna concezione di che cosa sia di che cosa siano questi concetti e questi sono chiamati a rappresentarci la realtà quelli che vengono e ci ci mettono termini in testa una situazione spaventevole ebbene come apre Marx il primo capitolo che si intitola Ware und Geld merci e denaro avete proprio la chiave del del rapporto capitalista merci denaro lavoro anche qui non lo farò ma anche qui ci si potrebbe infilare un discorsetto newtoniano ma il lavoro come categoria Marx scrive la ricchezza delle società nelle quali la produzione capitalista domina si mostra erscheint attenzione anche qui Marx guardate tra le tante cose anche uno stilista finissimo dunque erscheint si mostra appare l'apparire la realtà e l'ideologia erscheint appare non è ist è appare come una ungehoere waren sammlung questa è una cosa che poi Marx riprenderà nella critica dell'economia politica ma e di cui le merci singole sono le sue forme elementari guardate qui già c'è una certa anche dottrina logico atomista volendo Marx è molto familiare con le dottrine degli atomisti perciò dice la singola merce è la forma elementare della collezione della totalità delle merci questa penna è l'elemento minimo però anche qui potremmo andare sempre sotto perché poi sempre più in basso perché c'è il coperchio c'è l'inchiostro questo e l'altro ma attenzione quello che qui ci interessa è questo termine che Marx utilizza vedete Hölderlin era un amico carissimo amico studente avevano studiato insieme di Hegel Marx è un si ispira a Hegel insomma per molti versi alcuni lo considerano un hegeliano ma perché parliamo qui di Hölderlin in relazione a Marx bene vi ricordate il pollata adena di Sofocle ci sono tante cose meravigliose al mondo ma nessuna di esse è tanto meravigliosa quanto l'uomo questa è la traduzione italiana che però potrebbe anche essere vi sono tante cose terribili al mondo ma nessuna di esse è tanto terribile quanto l'essere umano l'uomo adesso quando Hölderlin traduce dal greco questo passaggio dell'antigone utilizza per questo terribile barra meraviglioso il termine ungeo il termine tedesco ungeo infatti c'è ungeo come ungeo nulla è così terribile quanto l'uomo marx utilizza questo terribile che è tanto terribile quanto meraviglioso per la collezione delle merci per l'insieme delle merci nel senso marx ha questo senso della meraviglia di fronte all'insieme delle merci ma non lo so se quando voi vedete ad esempio una di queste enormi navi container che navigano attraverso l'oceano dei giganti dei palazzi sul mare delle cose incredibili c'è qualcosa tanto di terribile quanto di meraviglioso e marx lo coglie utilizzando proprio lo stesso termine che Hölderlin utilizza per tratturre per tratturre sofocle e non finisce qui se voi leggete la famosa metamorfosi di Kafka cosa dice cosa scrive Kafka dalle prime pagine parla di Gregor Zamza questo venditore questo rappresentante quando Gregor Zamza si risveglia da sonni movimentati er fan sich selbst als ein ungezifer ungehoer verwandelt trova se stesso trasformato in un insetto ungehoer terribile barra meraviglioso nel senso l'insetto è terribile questa trasformazione ma c'è anche un senso della meraviglia vedete come Kafka riprende questo linguaggio riprende questa questa essenza del discorso culturale tra ottocento e novecento che da Sofocle dall'antichità arriva ad Hölderlin passa per Marx e finisce in Kafka il profeta della modernità Kafka dice che questa trasformazione di Gregor Zamza che come in tutti i romanzi un essere umano archetipico è una trasformazione che è tanto meravigliosa quanto terribile questo è quel quel dialogo quel discorso della cultura dove l'antico fornisce chiavi di lettura al nuovo nel in Kafka riemerge straordinariamente una chiave di lettura che è in Sofocle e che arriva a Kafka attraverso Hölderlin perché Hölderlin è la traduzione più importante in tedesco del testo di Sofocle questa intuizione del mondo e dell'essere umano e delle sue profondità che determina questo continuum di senso ecco continuum di senso arriviamo però al collasso di questo continuum con le barriere poste dalla modernità le barriere poste dalla modernità che sono barriere antirazionali in cui si determinano questi paletti il mondo ad esempio pensate io qui vorrei introdurre anche un altro testo che è proprio questo Ludwig Stein qui il testo sulla copertina dice soltanto di sociale la domanda sociale l'interrogativo sociale però se poi lo vedete il testo il titolo completo è in licht della filosofia la domanda sociale la richiesta sociale l'interrogativo l'interrogativo sociale alla luce della filosofia queste sono lezioni che Ludwig Stein diede all'università di Berna verso la fine dell'ottocento pubblicate poi alla fine dell'ottocento questa è un'edizione del 1904 devo trattare con molta attenzione perché 1903 scusate perché voi direte ho preso questo rispetto alla barriera della modernità bene innanzitutto Ludwig Stein è un problema che non sia più studiato è uno di quei tanti autori di cui diciamo mentre Marx viene studiato mentre Picchetti viene analizzato eccetera eccetera Stein che fa un'opera molto simile a quella di Picchetti lo viene quasi più considerato eppure eppure bisogna tenere presente che innanzitutto la figura di Stein è una figura grandiosa straordinaria un nato nell'impero austro-ungarico trasferitosi poi insegnava a Berlino scritto dei lavori bellissimi su Leibniz e Spinoza e questo testo di Soziale Fraga era un testo che era su tutte era in tutte le librerie su tutte le scrivanie di chi contava nella nella Europa mitteleuropea nella nella cultura mitteleuropea del tempo che praticamente la il momento del uno dei momenti di più grande fioritura della della civilizzazione dopo dopo l'epoca greca pensate che Ludwig Stein è uno dei grandi di quelli che influenzano profondamente Rosa Luxemburg tra gli altri letto da Walter Rathenau e poi anche un personaggio straordinario anche se io i miei problemi con il testo già a partire dalla dedica a Spencer ma come altri così come prova Marx così come provano ancora altri Stein prova a identificare le forme primitive della società e della comunità il pensiero di Stein è etico è uno dei punti a cui egli arriva c'è proprio un testo suo che si intitola Nietzsche come problema ma non Nietzsche come problema in quanto persona ma Nietzsche come problema in quanto vedete Nietzsche uno spacca tutto forse un giorno dovremo provare a parlarne ma vedete temi come Nietzsche ed altro sono un po' difficili da discutere in sedi come questa perché è stata fatta su questi autori una sono stati così pressati dentro una lettura delle cose che è manualistica in cui c'è quello poi c'è quello poi c'è il superuomo poi c'è l'altro che soltanto per provare a liberarli da questa gabbia in cui sono stati posti dalla modernità ci vorrebbero ore ed ore di discorsi ore ed ore di contributi e sono cose appunto che poi difficili ma anche insomma bisogna bisogna capire che potrebbero essere un problema se degli studenti che sono costretti ad andare a passare delle degli esami con quelle categorizzazioni potrebbero avere dei problemi se ascoltassero questi discorsi questi sono discorsi che bisogna fare in sedi riservate in sedi chiuse in cui si ragiona tra persone che già hanno una loro infarinatura una loro dimestichezza con il tema però Stein fondamento della sociologia del novecento io non so neanche se questo testo esista in italiano sicuramente forse in qualche edizione antica ma in edizione moderna non saprei identifica in Nietzsche uno dei problemi e non sbaglia tantissimo Nietzsche però appunto considerando che proviene da tutta una tradizione perché Nietzsche apre con questo suo essere uno spaccatutto questa critica del esempio Nietzsche fa una una critica dei valori che in realtà così come Marx crea il capitalismo Nietzsche crea il valore o quantomeno dà al valore quel peso che non aveva questa idea di Nietzsche che il valore sia la chiave che determina tutte queste fasi della storia che influisce è una sciocchezza perché il valore è un'invenzione moderna gli antichi non conoscono il concetto del valore come lo intendiamo noi noi diciamo ad esempio i valori di una società gli antichi non hanno questi temi per gli antichi l'unico il valore è la rete e la virtù non c'è il valore a meno che non parliamo di quello dei cremata del valore monetario nel senso che il valore del denaro ma il valore in senso morale come lo intende la società borghese non c'è perché non esiste la società borghese uno dei gravi drammi della modernità è proprio l'ingresso della borghesia che sostituisce l'aristocrazia e che ha il trionfo appunto nella rivoluzione maledetta nella rivoluzione francese che noi sembra una rivoluzione del popolo le peuple libertà egalità ma già nel vedete già nel tema già nel tema libertà egalità fraternità questo è un tema che venne ben evidenziato da Weaver in un testo che avrei dovuto citare forse parlando della della tesi di Marx su del tesi Feuerbach di Marx il titolo il libro si intitola Ideas Have Consequences e lui analizza questo questa questa tripartizione libertà egalità fraternità se c'è libertà e c'è egalità la fraternità dove c'entra perché la fraternità inserisce anche un rapporto di diseguaglianza di inegalità il fratello maggiore non è uguale al fratello minore il riportare associare accostare legalità alla fraternità è un errore concettuale ma la borghesia questo non interessa perché in realtà tutti questi sono slogan che infatti portano che cosa? portano immediatamente al tiranno Napoleone e alla restaurazione e la restaurazione in chiave di nuovo aristocratico borghese la quale terminerà nel novecento nel senso terminerà la fase aristocratica rimarrà soltanto la classe borghese oggi noi viviamo appunto uno dei drammi è il dramma della borghesia la borghesia ha valori perché il valore è artefatto è costruito non è naturale la virtù è naturale il valore è costruito è un costrutto al di là della sua relazione economica che è anche un problema il portare l'economico in ambito in ambito concettuale infatti questo determina tutta una serie di confusioni dal punto di vista delle culture l'equivalenza di tutti i valori no non tutti i valori sono equivalenti perché i valori sono relativi a dei discorsi sociali a dei discorsi culturali a dei discorsi etnici ma tu non puoi nessuno può venire a una persona razionale a un pandemente magari sì ma ad una persona razionale non si può difendere l'infibulazione come un valore di una determinata cultura non si può fare e questo già fa capire come il valore crolla rispetto alla virtù perché tutto il pensiero platonico è indirizzato alla ricerca di presupposti per poter discutere insieme e costruire anzi e svelare la verità dietro le apparenze se noi partiamo da un presupposto razionale noi capiamo che l'apparenza nasconde qualcosa che può essere svelato attraverso appunto l'esercizio di logica razionalità eccetera eccetera l'attributo di vedete questa cosa ad esempio si può anche spiegare molto bene con quello che facevano i soldati statunitensi contro i nativi americani che gli vendevano ad esempio per una bottiglia di whisky si facevano dare un territorio di centinaia di ettari perché il tema del valore è un tema relativo ed è un tema tipico della modernità adesso Nietzsche nel momento in cui fa questa critica di tutti i valori eccetera eccetera sta facendo sì una critica della società borghese della modernità ma sta al tempo stesso valutando sta attribuendo un peso a qualcosa che non ha un peso qualcosa che Platone direbbe in mera opinione adesso ma dove viene la barriera della modernità la barriera della modernità viene proprio da questo nel fatto che tutto quello che il pensiero tradizionale classico logico razionale la razionalità applicata al mondo si infrange dietro questi paletti che determinano l'ideologia della modernità che costruiscono il modo di comportarsi ad esempio tutti quanti voi conoscete saprete che ci sono dei modi di parlare di comportarsi quando si va ad una cerimonia quando cioè questo significa cosa che ci sono per ogni situazione modi diversi di essere se stessi e questa è allenazione pazia schistofrenia tu non puoi essere non puoi essere una persona qui e un'altra persona da un'altra parte a meno che non hai interiorizzato una ideologia che ti conduce alla malattia e da qui si spiega l'utilizzo spaventoso di psicofarmaci nella modernità oltre ad un'interpretazione appunto medico-criminale dell'essere umano come cosa da dover essere imbottita per avere dei comportamenti che sono in linea con delle direttive in linea con un'ideologia vedete poi alla fine tutto questo coincide con un'ideologia in cui torniamo al tema la domanda sociale diventa una categoria analizzabile non attraverso un discorso che parta dall'individuo ma un discorso che parta dalle collettività dalle comunità il principio della razionalità della libertà della democrazia parte sempre dall'individuo e arriva alla collettività nel momento però però il novecento però ci porta i totalitarismi che sono l'inverso di questo principio il totalitarismo parte dalla collettività per arrivare all'individuo e poi ovviamente schiacciarlo o inglobarlo nella della massa questo ovviamente è già in sé una alienazione radicale una forma di alienazione radicale in cui tu come individuo non sei più nulla vieni cancellato da una massa da una collettività che sta sopra di te e ti schiaccia e tutto questo è possibile soltanto nel momento in cui tu non sei più non sei più portatore di un senso il settantunesimo senso vi ricordate per ogni c'è un testo una frase del Talmud che dice per ogni passo della scrittura ci sono 70 significati e un mio amico scrisse questo libro dal titolo del settantunesimo senso perché c'è il senso che porti tu ma se io sono legato ad un rapporto in cui è la collettività che decide sul singolo allora quel senso del singolo scompare ma attenzione scomparendo il senso del singolo scompare il senso tu cur perché la collettività non può generare un senso è soltanto l'individuo che è generatore di significato per questo un'ideologia come vediamo in maniera grave e criminale in questo momento che sulla base di un astratto principio collettivo voglia soggiogare l'individuo oltre ad essere coerente con tutti i disastri e le catastrofi della modernità alla fine fa scomparire il senso la ragione e l'essere umano grazie grazie a tutti